bene buongiorno ben arrivati oggi siamo su una location d'eccezione siamo sulla nave più bella del mondo come vedete siamo su nave scuola amerigo vescucci ricordiamo l'unità più anziana in servizio della nostra marina militare unità che è adibita a servizio addestrativo degli allievi dell'accademia navale di rigorno oggi il tema del nostro incontro è quello della blu economy e soprattutto di quale ruolo può avere la blu economy per lo sviluppo economico della sicilia di domani ne parliamo con tanti ospiti alcuni sono qui a bordo con me di vescucci altri sono in presenza da remoto e poi avremo anche degli altri messaggi registrati da persone che purtroppo non sono potute essere qui con noi oggi vi presento velocemente miei ospiti abbiamo ivo blandina presidente della camera di commercio di messina e vicepresidente di union camere sicilia benvenuto blandina abbiamo ancora francesco di sarcina segretario generale dell'autorità di sistema portuale del mar liguri orientale benvenuto di sarcina abbiamo giovanni lorenzo forceri che il presidente del distretto ligure delle tecnologie marine uno dei tre soci di italian blue growth che la società organizzatrice del sea future nel quale oggi siamo ospitati benvenuto forceri e ancora con noi paola sabella in per il rappresentanza anche delle quote rose sabella quindi segretario generale della camera di commercio di messina benvenuto abbiamo in collegamento invece da remoto perché purtroppo e purtroppo lo dico soprattutto per loro che non potranno godere delle bellezze di questa splendida nave abbiamo in collegamento enrico lupi che il presidente della camera di commercio riviere di Liguria benvenuto lupi grazie di essere con noi buongiorno a tutti voi grazie ancora in collegamento con noi gaetano armao dovrebbe essere arrivato perché aveva un impegno istituzionale ma ci raggiungerà se no a brevissimo ricordiamo armao assessore all'economia e vicepresidente della regione siciliana dovevano essere con noi anche altri ospiti ve l'ho detto in premessa questi ospiti sono giuseppe tripoli il segretario generale di union camere nazionale giorgio palmucci presidente di enit l'agenzia dell'ente nazionale del turismo italiano e giuseppe pace presidente di union camere sicilia hanno voluto testimoniare la loro vicinanza a questo evento comunque mandandoci dei messaggi video e nel caso di pace un messaggio che io dopo leggerò per tutti voi il presidente di union camere permettete di dirvelo di dirvelo il presidente di union camere nazionale andrea prete da poco arrivato alla guida di union camere nazionale ha dato il patrocinio a questo evento promosso e fortemente voluto da union camere sicilia e camera di commercio di messina che sono entrambe qui rappresentate fisicamente da ivo blandina e nel suo comunicato ha scritto un passaggio che io voglio leggervi prete dice il sistema camerale e l'union camere sono da tempo interessati ai temi della blu economia del turismo nautico per i quali la sicilia costituisce un importante centro di riferimento ma permettetemi adesso di dare il benvenuto al padrone di casa perché abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi per un saluto e un graditissimo saluto il comandante massimiliano siragusa capitano di vascello che ha assunto da pochissimo da poco più di dieci giorni il ruolo di comandante di questa splendida nave a vela che è veramente un gioiello e possiamo dire che un'ambasciatrice della bellezza e del buon gusto e del saper fare italiano benvenuto comandante grazie grazie a voi per essere qui virtualmente e in presenza tutte le alte cariche e le persone importanti delle aziende che sono state nominate questa nave è effettivamente un ambasciatore dell'italianità e c'è stato anche riconosciuto dall'unesco proprio pochi mesi fa a giugno in una bella cerimonia svoltasi a monte carlo alla presenza del principe Alberto il ruolo anche di ambasciatore del decennio per lo sviluppo sostenibile è uno dei guidoni infatti che sventola non arriva chi da remoto è collegato non lo può vedere ma sventola arriva di questa nave proprio con il compito di diffondere l'importanza dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente ci sono vari collegamenti personali ecco che mi fa piacere ricordare in in questo consesso perché io sono un ligure di origini siciliane e Siragusa il mio cognome lo lo tradisce chiaramente e credo molto nel fatto che ecco queste due regioni abbiano tanto da dire e tanto da dare in questo panorama che è stato descritto nel mio precedente incarico come è stato ricordato sono qui in comando da pochi giorni sono stato direttore del centro studi della marina militare in una fantastica altra location marittima che è venezia abbiamo un istituto lì e mi sono occupato di conveni che riguardavano proprio le tante risorse che ci sono nel mare a volte non tanto conosciute dai nostri concittadini di quello che possono dare in termini di economia e di come sia importante proteggerle proteggerle da cittadini con il nostro comportamento quotidiano e da militari in extrema razio quando necessario per cui la marina militare tutta è molto vicina a queste tematiche e siamo contenti a maggior ragione in questo senso di poter ospitare questo consesso a bordo non voglio rubare loro altro tempo e mi spiace di non poter rimanere per tutto il tempo con voi perché ho altri impegni ma sicuramente poi in chiusura mi riaffaccerò per le conclusioni grazie a ragusa non possiamo che augurarle vento in poppa per la sua splendida avventura a bordo del vescucci ci vediamo dopo grazie per essere stato con noi per motivi ovviamente di emergenza covid abbiamo il microfono che io lo passerò man mano ai nostri ospiti ognuno di loro è dotato di delle salviette presidio medico chirurgo per poi poter operare presidente blandina non ti non ti chiamerò subito in questione ma ti lascio il microfono perché iniziamo ad entrare nel merito ovviamente dell'incontro odierno e partiamo dai dati che sono stati presentati dall'istituto guglielmo tagliacarne il centro di ricerca del sistema camerale pochi giorni fa esattamente il 20 di settembre durante l'evento del salone nautico di genova l'istituto guglielmo tagliacarne ha presentato la propria relazione sulla blu economy sono dei dati estremamente importanti che fotografano quella che è la realtà di questo importante settore al momento prima della pandemia quindi una fotografia al 2019 è il dato che emerge che il valore aggiunto diretto del complesso dei settori che compongono la blu economy è di 47.5 miliardi di euro questo è il dato che risultava nel 2019 ma questo è un dato che forse ancora nulla rispetto a un altro dato che io adesso vi dirò perché nel suo insieme l'economia del mare in italia produce ricchezza per oltre 130 miliardi di euro questo è spiegato dall'effetto moltiplicatore che l'economia la blu economy riesce ad avere perché per ogni euro prodotto dalla blu economy ne vengono attivati altri 1.9 nel resto dell'economia quindi tutto l'indotto che beneficia di questo settore da un punto di vista occupazionale poi la filiera del mare è anche estremamente importante perché da lavoro a quasi 900 mila persone e conta più di 208 mila imprese impiegate a livello nazionale in questo ambito la blu economy quindi possiamo ben dire che ricopre un ruolo centrale per lo sviluppo economico del paese basta pensare che il suo valore diretto è superiore di una volta e mezzo addirittura di quello dell'agricoltura oggi siamo a bordo di nave vescucci siamo nella splendida cornice dell'arsenale di la spezia e parliamo di sicilia non è un caso perché questa filiera è particolarmente presente nel nostro mezzogiorno d'italia un mezzogiorno che incide circa un terzo del valore dell'economia blu quindi un dato veramente importante in termini relativi poi ricordiamo che la blu economy meridionale pesa per l'undici punto due per cento dell'economia del mezzogiorno rispetto a un valore medio nazionale che si assesta invece soltanto all'otto punto sei per cento da questo capiamo veramente il grande potenziale di qui il titolo anche del nostro evento come la blu economy possa realmente essere di da volano per lo sviluppo economico della sicilia di domani io prima di iniziare a confrontarmi con i nostri importanti ospiti tanto in presenza quanto a distanza vorrei dare lettura di un messaggio che ci ha mandato il presidente della union camere sicilia pace e adesso vi leggo velocemente pace dichiara che union camere sicilia e la camera di commercio messina hanno da tempo avviato un percorso di valorizzazione dell'economia del mare della regione un asset che è considerato centrale anche dalla regione siciliana che l'ha inserita tra i temi prioritari del documento programmatico finanziario regionale la blu economy poi deve diventare una delle leve trainanti dell'economia siciliana per poter competere sui mercati internazionali partendo dal fondamentale ruolo indispensabile della ricerca e dell'innovazione in questo contesto la ricerca della blu economy presentato dal centro studi tagliacarne dimostra che l'economia del mare può fungere da volano per lo sviluppo economico siciliano e la nostra regione può a pieno titolo competere in questo settore sui più importanti mercati internazionali questo è il messaggio di pace che ringraziamo ovviamente per essere stato comunque anche se soltanto con un messaggio presente ai nostri lavori e io inizierei subito con Gaetano Armao però chiedo alla regia se Armao è collegato vicepresidente Armao perché non lo vedo in video vediamo un attimo se niente parleremo con Armao allora appena si collega evidentemente c'è un problema tecnico iniziamo proprio dal presidente Blandina Blandina una posizione di livello sicuramente l'abbiamo detto in premessa per quanto riguarda la blu economy a livello regionale ma che si qualifica ulteriormente anche a livello provinciale e pensiamo a Palermo Messina e Catania che sono le province che da questa ricerca presentata dal tagliacarne fanno segnare la maggiore consistenza economica rispettivamente in termini di valore aggiunto complessivo della filiera lei alla guida di un importante camera di commercio appunto quella messinese conosce benissimo il territorio conosce il sistema produttivo del territorio le chiedo quanto secondo lei e in che modo la blu economy può incidere oggi sull'economia locale in Sicilia e più nel particolare nel suo territorio messinese buon pomeriggio a tutti grazie 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 agli ospiti grazie al comandante di navere spucci della camera di commercio della riguera ligure perché è un lui l'ospite che si permette di svolgere il nostro il nostro ruolo di istituzione camerale in 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 trasferta in un altro territorio per noi è un grandissimo piacere un'occasione per per guardare a una realtà quella di la spezia ma in tutta la regione liguria che ovviamente il il primo cluster marittimo in termini di produzione di valore di occupati di tecnologia di tutto veniamo a imparare cerchiamo di 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 replicare qualche modello di successo che qui è stato è stato realizzato eh proprio perché crediamo che il nostro eh il nostro il nostro lavoro nei nostri territori ehm può non solo valorizzare ulteriormente quello che costisce che costituisce oggi diciamo in un eh che rientra sotto il cappello della blu economy ma pensiamo che si possa eh che si possa crescere che ci siano spazi di miglioramento spazi per acquisire nuovi mercati per acquisire tecnologie per far crescere eh nuove nuove imprese eh rette da giovani con un con un'apertura sul futuro diversa 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 dalla nostra ehm siamo impegnati nel capire come mettere in rete come mettere in fase eh tutto quello che costituisce attività legata alla risorsa mare eh e tentiamo di farlo con con una visione strategica che investe tutti gli altri attori istituzionali del territorio e soprattutto le le imprese alle quali cerchiamo di stare sempre più vicino perché eh non è solo il caso di sostenerle in maniera eh formale ma è proprio il caso di eh cercare di eh rendere le condizioni ottimali perché questo settore continui continui a crescere. Abbiamo delle realtà significative in tutti in tutti i settori eh da da quello dell'acquacoltura eh quello della della pesca alla costruzione navale eh Messina c'è un un cantiere storico che Rodriguez oggi eh si chiama Intermarine ma continua a far viaggiare da da quarant'anni eh i passeggeri a quarant'anni sull'acqua eh c'è un arsenale che sta eh aprendo a nuove a nuove attività si si è insediata una una new co che fa refitting di di maxi yacht di barche di barche di lusso eh e anche questo lascia sperare che si riesca a coniugare appunto l'esperienza eh delle delle vecchie officine dei vecchi delle vecchie maestranze ehm riconvertirle accompagnarle verso un mercato che richiede eh una un un livello di efficienza un livello di cura un livello di eh applicazione assolutamente eh straordinariamente eh attuale e moderno. Eh e poi ci sono i settori tradizionali quelli della della navigazione quello delle le attività le attività portuali eh le costruzioni le imbarcazioni da di porto eh i porti turistici mh c'è ecco tutto questo diciamo non solo cerchiamo di tenerlo insieme in maniera efficiente ma cerchiamo di eh far espandere un sistema che nella sua articolazione in diversi eh eh come dire in diversi comparti produttivi può diventare realmente eh un un una prospettiva di di crescita e di avanzamento comprens complessivo del nostro tessuto produttivo. Grazie Blandina quindi dalle parole Blandina abbiamo un territorio pronto ad accettare la sfida della Blue Economy per lo sviluppo della Sicilia di domani sfida che è stata accolta come abbiamo detto prima anche dall'intero sistema camerale chiedo alla regione di mandare in onda il contributo video di Giuseppe Tripoli segretario generale di Union Camere micro in particolare la camera di Poggiunga di Messina che ha tutti partecipanti posso essere qui sono impegnato qui a Roma, ma volevo sottolineare l'importanza di questo evento, centrato sul tema della bioeconomia del ruolo che è stato scoperto per la Sicilia. È un settore importante, sempre crescente, e lo vediamo a sottolineare. Quasi ha la sua consigliante valore al punto più di 900 mila occupanti. E per la Sicilia, che rappresenta circa il 10% di ciò, ha un valore ancora speriore, essendo un'isola, non solo per il settore in sé, ma anche per l'indotto di genere, per le abitudini antigenali, per il commercio, per l'industria che si accangiano alla sua economia, per il tema collegato adesso dell'economia, dell'automazione, della ricerca. È un settore che il TNRR giustamente si deve fruttare, soprattutto per la terra come quella che è, dicevo, è fondata da parte della società. Io ho avuto tutti veramente di questo come inizio del gruppo di venti, scoperti di raccogliere il gruppo di l'industria. Noi, non c'è tutto, ma c'è tutto il gruppo di venti, ma c'è tutto il punto che pensato e ho detto. Buonasera. Ecco, ringraziamo Tripoli per aver dato comunque il suo contributo e ora parliamo con un'altra persona che conosce bene il sistema portuale. Abbiamo con noi di Sarcina, che ha, Oltre all'incarico che abbiamo detto che ricopre attualmente in Liguria, conosce molto bene anche il territorio siciliano, il territorio messinese nello specifico perché è stato segretario generale anche della dottorità portuale proprio giù a Messina. Di Sarcina il mare se leggiamo questi dati anche che ci vengono dati dalla ricerca del tagliacarne assorbe più di un terzo dell'interscambio italiano e i porti del mezzogiorno incidono su quasi la metà del traffico nazionale. Purtroppo ci sono due note dolenti che però le devo evidenziare, quello che siamo ancora in presenza di un sistema portuale purtroppo ad alto livello di emissioni inquinanti e l'Italia è ancora molto indietro sull'attuazione delle strategie per l'ambiente marino che ovviamente dovremmo applicare. Le chiedo di Sarcina, secondo lei quanto lo sviluppo di un sistema portuale che sia allo stesso tempo anche attento all'ambiente, ecco pensiamo al territorio messinese dove si è realizzato per esempio nell'area di Capomilazzo questa nuova area marina protetta. Quanto è importante che il sistema portuale pensi a un proprio sviluppo però che vada di pari passo a un rispetto per l'ambiente e in che modo questo può contribuire a raggiungere risultati sempre più importanti per l'economia del mare? Sì, intanto grazie per aver ricevuto questo invito che mi dà l'occasione appunto di partecipare insieme a voi alla trattazione di questi importanti temi. Non c'è dubbio che l'economia del mare debba avere uno sguardo assolutamente attento e moderno nei confronti dei temi dell'ambiente, questo ormai è un tema assolutamente imprescindibile, non si può assolutamente né rimandare né far finta di niente. Lei giustamente ha citato il fatto che l'economia del mare ha una importanza strategica nell'economia in senso lato. Vorrei tradurre questo, prima di entrare nello specifico problema dell'ambiente, vorrei tradurre questo in una semplice valutazione di tipo proprio quantitativo, nel senso che dobbiamo pensare che tutte le merci, senza andare ad altro, solo sulle merci, tutte le merci che noi utilizziamo durante le nostre giornate, i cellulari vestiti, le scarpe, gli occhiali o qualunque altra roba, la roba per la casa ed altro, è tutta roba che spesso e volentieri viene trasportata via mare e viene anche da lontano, alcune volte da molto lontano. Questi trasporti via mare sono già di per sé un aspetto ecosostenibile perché se è vero che qualunque genere di trasporto comporta ovviamente un livello di emissione, è anche vero che suggerirei a voi di immaginare se una nave ad esempio porta contenitori che scende anche 10.000 contenitori, dovesse trasportare questi 10.000 contenitori via terra, cioè l'impatto sull'ambiente del trasporto via terra di quella equivalente quantità di merce avrebbe una rigaduta esageratamente maggiore di quanto non la ha sulla nave. Quindi già di per sé la modalità navale, il trasporto marittimo è ecocompatibile per natura, per concezione. Ma questo naturalmente non basta perché come è stato detto, ahimè poi in qualche modo sulla terra ferma ci arriva e quindi bisogna attraverso i porti fare molto, fare ancora molto, molto più di quello che si fa per riuscire a raggiungere un livello più sostenibile del trasporto marittimo in senso lato. Ma da questo punto di vista devo dire che soprattutto con l'avvento di queste misure collegate con il piano nazionale di ripresa e resilienza c'è veramente tanto da fare e tanto che si può fare. Ad esempio in questo momento alcune autorità di sistema portuale, la nostra qui di Spezia e tra queste, sta beneficiando di una misura, di un bando che scade l'8 ottobre attraverso il quale si riuscirà ad avere le risorse economiche per la conversione di una buona parte del parco mezzi dei porti, per l'avvio di una serie di iniziative volte a guardare il futuro in termini di transizione ecologica che è un aspetto molto importante, ad esempio realizzare le prime misure di approvvigionamento energetico attraverso l'idrogeno perché addirittura l'energia elettrica è considerata un dato di fatto, bisognerebbe considerare un dato di fatto, ma addirittura andare verso l'idrogeno. Quindi tutta una serie di iniziative e opportunità che nel loro insieme, con i tempi giusti, perché è evidente che non si possono fare queste cose in una sola giornata, ma con i tempi giusti ci porteranno ad avere un quadro complessivo di emissioni certamente inferiore che è il contributo secondo, oltre al fatto in se stesso che dicevo prima, che la Blue Economy può dare alla tutela dell'ambiente in senso lato. Naturalmente ho parlato di Spezia, il gemellaggio a cui facevo riferimento prima di Presidente Guplandina è vero tra Messina e Spezia, ci sono molte cose in comune. Io ho vissuto in passato quell'esperienza, sto vivendo questa, ha citato per esempio il caso di Intermarina, sarà un caso, ma Intermarina ha una sede qui e una sede lì, è sempre proprio un caso particolarmente emblematico. Però voglio dire, nello stretto di Messina ci sono temi assolutamente importanti, ne vorrei citare uno perché non bisogna sempre aspettare che arrivino i finanziamenti per la transizione energetica, quello è certamente importante, però quando io sono andato via, ad esempio, avevo contribuito, direi, in parte, poi valuteremo se è buona o poca parte, avevo contribuito a lanciare la costruzione di un porto nuovo nel sud della città. Quello sembrerà una banalità, ma non lo è per niente, nel senso che a parità di ogni altra condizione, realizzare i porti nei posti giusti, quindi fuori dai tessuti urbani, significa decongestionare il traffico, significa abbattere notevolmente le emissioni, anche senza incidere sulla qualità delle emissioni dei mezzi di trasporto. E quindi, come dire, le scelte pianificatorie, progettuali e realizzative all'interno dei porti hanno una rigaduta forte sulle componenti ambientali dell'ecosistema. Quindi direi che assolutamente la risposta che mi sento di dare è che i porti e l'economia del mare hanno, hanno sempre avuto, e sempre di più dovranno avere, con misure giuste e ovviamente con l'energia che tutti noi dobbiamo mettere nel nostro lavoro quotidianamente, un impatto forte nel reggere nei prossimi anni la pressione dei mutamenti climatici e la necessità di andare verso una transizione sempre più forte verso l'ambiente. Grazie di Sargina per la sua analisi assolutamente chiara, ma mi piace collegarmi a quello che le hai detto prima, ho parlato del gemellaggio, il gemellaggio che era stato chiamato prima in causa da Blandina. Continuiamo a parlare di gemellaggio, ne parliamo con Forceri. Forceri, siamo alla settima edizione di questo evento che voi realizzate alla Spezia, purtroppo causa Covid erano due anni che non si non si faceva, è un incontro internazionale per tutti coloro che operano, per addetti ai lavori che operano nel campo della difesa e allo stesso tempo un hub del mare mediterraneo per quanto riguarda la Blue Economy. Parlavamo, di Sargina parlava di un gemellaggio, le chiedo quanto potrebbe essere importante, so per indiscrezioni che già ne state parlando, ma quanto potrebbe essere importante replicare l'esperienza che si sta realizzando qui con successo oramai alla Spezia, in una città di mare importante quale Messina, quindi in una regione a fortissima vocazione marinaresca, che tipo di valore aggiunto potrebbe dare realizzare un salone magari anche in collaborazione con quello che voi state realizzando qui, quindi una sorta di replica di quello che è il Sea Future che si fa oggi alla Spezia, ovviamente adattandolo a quelle che sono le specificità del territorio, perché chiaro lo diceva di Sargina prima, ci sono molte similitudini fra la realtà messinese e quella spezzina, però è chiaro che poi Messina ha una forte vocazione anche turistica, Presidente Blandina, poi lo sentiremo anche dall'intervento del Presidente dell'Enit Palmucci. Forceri, siamo pronti per realizzare questo grande evento in collaborazione con chi oggi è qui presentato, con la Camera di Commercio di Messina, con la Camera Siciliana, con il sistema camerale per realizzare veramente un evento importante a Messina che possa rilanciare ancora di più, perché abbiamo sentito dai vari ospiti una grande vocazione al fare in questo settore. Io penso di sì, dai primi colloqui informali che abbiamo avuto e che stiamo avendo, mi pare che ci possono essere le condizioni, trattandosi di Sea Future, di una manifestazione che si svolge ogni due anni, di magari trovare la possibilità di intercalare nell'anno in cui Sea Future non si svolge alla Spezia, di poterla realizzare eventualmente anche a Messina. Il tema però, se mi consente, è i dati che sono stati letti all'inizio, che sono stati anche ripetuti sulla Blue Economy, sull'importanza che ha questo settore dell'economia per l'economia intera del nostro Paese, sono dati che sono noti, cioè un fatto noto, che l'economia legata al mare, la cosiddetta Blue Economy, che oggi sempre più si appresta ad essere anche green, perché è inevitabile che sia così, che abbia un'importanza in un Paese che è stato definito più volte come un molo proteso sul Mediterraneo, un Paese che trae dalle coste, dal rapporto col mare, dai trasporti, trae tanta parte della sua ricchezza in tutti i sensi, non soltanto economica ma anche culturale. Voi siete in una regione che è un patrimonio mondiale di cultura, di storia e di tradizione, non soltanto nella Blue Economy, ma parlavo in senso generale. Quindi tutte queste cose che io sento dire da tanto tempo, che si ripetono e che a mio giudizio però devono trovare anche un modo in cui, un momento in cui si catalizzano e si traducono in fatti, perché altrimenti rischiamo di rimanere soltanto alle parole, ai riconoscimenti. Noi abbiamo nel nostro Paese un'organizzazione in questo settore che io credo abbastanza forte e anche invidiabile, perché esistono i cluster regionali come appunto il distretto Ligure delle tecnologie marine, come sono quelli siciliani, campani, friulani, friuli Venezia Giulia, eccetera. Esiste un cluster nazionale della Blue Economy, Blue Italian Browser come è definito, che mette assieme tutte queste energie, imprese, centri di ricerca, università, eccetera. Quindi abbiamo un'organizzazione a cui io credo dobbiamo trovare il modo di dare una spinta di concretezza. Credo che oggi noi abbiamo bisogno di tanta concretezza, sapere per cosa ci muoviamo. Ormai gli strumenti sono definiti, abbiamo anche questa enorme risorsa del PNR che io credo è un'occasione, anzi, non lo dico soltanto io, è un'occasione assolutamente unica ed irripetibile. Sono state fissate le linee, eccetera. Vedo che io, per quanto mi riguarda, vedo che c'è un governo che sta spingendo in maniera decisa per andare avanti e penso che sia giusto anche sostenere questo tipo di sforzo. Ora dobbiamo fare in modo di come queste ricadute si articolano nei vari territori e come dai vari territori possono arrivare delle idee, delle iniziative che si conciliano con queste politiche nazionali. Adesso non voglio fare dal bottom up, eccetera, usare termini. Ma insomma, per capire, abbiamo bisogno di questo intreccio. Abbiamo bisogno di avere una grande, ripeto, chiarezza di obiettivi e concretezza per poterli raggiungere. Qual è il problema che abbiamo? Ne abbiamo tanti, naturalmente. Ma qual è il problema che abbiamo, che ci riguarda direttamente, a cui si infiuccia o si ricollega perché si infiuccia o nasce proprio con questo obiettivo? Noi abbiamo un problema di dimensionamento ridotto delle nostre imprese, anche nel settore del mare. Se togliamo le concentrazioni che sono avvenute nel campo, diciamo, del trasporto marittimo con queste grandi compagnie che ormai sono ridotte a meno delle dita di una mano in campo mondiale, poi a scendere abbiamo tutta una serie di piccole e medie imprese che da una parte dobbiamo sforzarci di farle diventare grandi e possono diventare grandi con l'appoggio di tutti, le camere di commercio, appunto i cluster, eccetera, ma dall'altra dobbiamo anche, a mio giudizio, trovare il modo di metterle assieme su obiettivi comuni e farle lavorare assieme, farle superare questo limite della, diciamo, non adeguata dimensione delle nostre imprese in generale per affrontare un mercato globale che oggi è sempre più ampio e che richiede sempre più di avere il fisico. Allora, se non ce la possiamo avere singolarmente, bisogna... Per far questo io credo che possiamo fare insieme uno sforzo perché quello che noi andiamo a individuare, intanto io credo che sarebbe molto positivo poter individuare una collaborazione che ci consenta appunto di gemellarci, eccetera, con degli obiettivi concreti e da verificare anche di volta in volta, di edizione in edizione, per quello che sono stati gli obiettivi raggiunti, quelli non raggiunti e cosa bisogna fare. Tra questi obiettivi io credo che ci sia, e poi io finisco, un'esigenza fondamentale, che è quella di consentire alle nostre imprese, soprattutto a quelle piccole, piccole e medie, quindi parliamo anche di imprese non soltanto di micro, micro, piccole e medie imprese, di consentire di reggere la sfida dell'innovazione. Oggi si sta sul mercato, oggi si può guardare avanti rispetto a quelli che sono i bisogni, le esigenze future del nostro paese, dell'Europa, dell'area del Mediterraneo, solo se si ha una forte capacità di innovare, di innovare i sistemi produttivi, di innovare la qualità dei prodotti, di innovare anche appunto trovando idee nuove e innovative che devono essere però sostenute. E per far questo io credo che sia estremamente necessario che le imprese si mettano assieme. Ecco qual è la funzione, ad esempio, del cluster del DLTM in Liguria, cioè mettere assieme il mondo dell'impresa con il mondo della ricerca, che è con il mondo dell'università, che sono tutti, diciamo, soci del nostro consorzio che è il distretto, per sviluppare ricerche che ci consentano di innovare, di individuare prodotti innovativi, di individuare processi innovativi da reggere la competizione del mercato e di essere al livello adeguato in questa competizione mondiale. Noi dobbiamo sapere, poi finisco, che non possiamo reggere a 360 gradi il mercato, perché il nostro paese ha alcuni punti di forza che sono forti a livello europeo, a livello mondiale, ma non è uno dei primi paesi al mondo da questo punto di vista. abbiamo perso anzi tanti livelli, se pensiamo che negli anni Ottanta noi facevamo parte del G5, cioè eravamo tra i cinque grandi paesi al mondo dal punto di vista della produzione industriale, non solo, eccetera, e adesso cerchiamo di rimanere nel G20, ma questa è una battuta. Però ci sono dei settori che devono essere favoriti, che devono essere sostenute e delle nicchie che devono essere coltivate e sviluppate. Ecco, io credo che il settore della blue economy sia sicuramente il settore più di altri in cui il paese può giocare un ruolo. Lo può giocare ora, lo può giocare nel futuro, e sarebbe veramente un errore drammatico se non puntassimo in questa direzione. Mi pare, da quello che sta succedendo, che stiamo andando nella direzione giusta. Cerchiamo di non disperdere questi sforzi, cerchiamo di cogliere quest'occasione che noi oggi abbiamo, cerchiamo di lavorare insieme, anche stabilendo cooperazioni, gemellaggi e quanto altro sia necessario per raggiungere questi risultati. Vi ringrazio. Grazie Forceri, quindi sicuramente l'esperienza, l'esperienza spezzina potrà essere, va bene, di aiuto nella realizzazione di quello che realizzeremo giù in Sicilia Messina, ma continuiamo a parlare delle Camere di Commercio, perché io ho in collegamento il Presidente Lupi. Lupi, lei come tutti noi ha avuto modo di leggere questa bella ricerca che è stata fatta dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne, presentata come dicevo al Salone Nautico di Genova e leggendo questa ricerca la sua regione, la Liguria, risulta essere al primo posto nella graduatoria regionale per incidenza del valore aggiunto prodotto proprio dal sistema mare sul totale dell'economia. Quindi siamo su un 11.9%. Però un dato importante è l'analisi di quali sono le regioni che seguono la Liguria in questa classifica. secondo posto per la Sardegna con il 5.6%, ma al terzo posto c'è proprio la Sicilia di cui stiamo parlando adesso con il 5.4%. Lupi, la voglio provocare un po', le chiedo quali suggerimenti, lei si sente di dare ora al sistema camerale siciliano in questo modo ha possibilità di parlare direttamente con il suo amico Blandina e le chiedo di essere sincero, senza temere che Blandina poi possa fare tesoro dei suoi suggerimenti e scavalcarla in questa ricerca, in questa nobile classifica. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto porto un saluto del sistema camerale in piedi a Savona e alla Spezia, circa 100.000 imprese, con grande piacere oggi conosco in video l'amico Blandina, presidente di Messina, insieme al suo segretario generale, adesso viene inteso, insieme agli altri ospiti, saluto l'onorevole Forceri, congratulazione a noi stessi, l'onorevole Forceri, per la splendida edizione del Salone, posso dirlo? Credo che possiamo dirlo, e no, lo voglio dire però, perché andiamo sempre per scontato, come dire, i risultati con le fatiche svolte. suggerimenti alcuno, perché siamo tutti in fase di apprendimento e di mutua esperienza e di valori di interscambio. Mi ha colpito molto l'analisi del tagliacarne, che vede la Liguria, come diceva lei, posizionata nei primi posti, ma soprattutto mi colpisce che tre province liguri sono nelle prime dieci posizioni, questo per noi è un valore economico molto molto importante, perché poi bisogna andare a spacchettare, diciamo, i valori economici di settore, no? Quindi la pesca, il turismo, la cantieristica, e questo credo che serva anche al sistema Sicilia, voglio dire, fare un'analisi approfondita dei valori di tipo economico, mandando a individuare i segmenti, no? Perché questo credo che poi ci permetta di andare a ricercare gli spazi di crescita. Il mio invito di oggi è di, visto che si parla di gemellaggi, collaborazioni, di allargare il gemellaggio non solo tra Messina e Spezia, ma tra Liguria e Sicilia, mi permetto di dire questo, perché abbiamo una ricchezza tale, tanta di esperienze, di valori, ma anche di contiguità progettuali, che a mio avviso permette di raggiungere grandi risultati. Guardate, io vi dico la mia sensazione, io sono un uomo di impresa, ma non di pesce, voglio dire, non di mare, faccio agroalimentare. Molto si parla e si valorizza l'agroalimentare. Sulla Blue Economy, a mio avviso, non c'è la percezione pubblica del valore economico della Blue Economy stessa. Questa è la mia percezione personale. Allora, momenti di incontro, di convegno, piuttosto che di salone, sono estremamente importanti, ma mi rivolgo all'amico Blandina e al sistema camerale, noi possiamo e dobbiamo fare di più sulla Blue Economy. Andando a individuare territorio per territorio, situazione per situazione, a potenziare naturalmente i valori naturali che ci sono. Io, ad esempio, sono d'Imperia, noi abbiamo una buona cantieristica, ma sicuramente assai più limitata della spezzina, per fare un esempio. Cantieristica è tipo civile, non militare, naturalmente. non so voi in Sicilia perché non conosco questa realtà. Quindi, per chiudere il mio intervento, mi scuso se poi mi devo allontanare perché purtroppo il tempo è tiranno per tutti. Congratulazioni di questo incontro, ho bene il salone, se proseguiremo sicuramente con l'amico Blandina, i colloqui successivi. Saremo presenti in Sicilia, se ci saranno naturalmente condizioni favorevoli come credo che ci siano, proprio nello scambio di buone pratiche, di mutualità di esperienza e di due regioni che sono bagnate dal mare, dove il mare è strategico a livello socio-economico e progettuale. Grazie, grazie Lupi. Io vedo che Blandina, io ho appena passato il microfono perché voleva non ribattere, ma giustamente confrontarsi ancora velocemente con le parole che ha detto il Presidente Lupi. Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro sono il Vice Presidente Vicario di Unione Camere Sicilia, quindi sono d'accordo che bisogna allargare a livello regionale, parlare e confrontarsi su sistemi ancora più articolati, più ampi, che possono essere i due sistemi camerali di Liguria e Sicilia. Quindi raccolgo l'invito, ma anche qui c'è stato un richiamo forte a fare le cose concretamente, è il nostro vizio, la nostra abitudine, sono un imprenditore anch'io. Queste sono occasioni che servono esattamente a incominciare a prendere le misure per fare le cose in maniera coordinata, insieme e soprattutto traguardando obiettivi concreti e realizzabili. Grazie ancora. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Arrivederci Presidente Lupi. Blandina, c'era Forceri che voleva anche lui aggiungere due parole perché poi Forceri purtroppo dovrà allontanarsi perché è relatore in un altro evento che abbiamo qui. Prego Forceri. Io volevo soltanto aggiungere due parole di scusa perché devo appunto lasciarvi, ma anche dirvi dove vado, perché vado qui sotto in fiera dove c'è insieme al Ministro Giorgetti consegniamo sette riconoscimenti awards a dei giovani laureati che hanno sviluppato delle tesi sull'innovazione, tra questi proprio su idee e progetti innovativi. Hanno partecipato 34 giovani di diverse università, credo anche del sud, mi ricordo Politecnico di Bari, mi ricordo quella di Genova, mi ricordo tante altre università. Su questi progetti, idee progettuali ne sono state selezionate sette. Ora queste sette vengono sottoposte al vaglio degli imprenditori, delle imprese presenti a SeaFuture e tra queste sette ne verranno individuate tre che saranno i vincitori dei premi che sono premi non in denaro ma in tecnologia e che però avranno una possibilità direi quasi automatica di rapporto con le imprese. Io credo che sia anche questo un modo per favorire quei processi innovativi di cui abbiamo bisogno e mi scuso con voi se ho parlato anche troppo però adesso non correte più questo rischio perché io vi devo lasciare. Grazie. No, grazie Forceri anche perché questa testimonianza perché abbiamo parlato dell'importanza della formazione, dell'innovazione, della ricerca. Nel frattempo salutiamo Forceri che ci deve lasciare. Grazie per essere stato con noi. Nel frattempo ci ha raggiunto, ecco lo vediamo collegato in video, il vicepresidente assessore all'economia della regione siciliana, Ghetano Armao, Armao deve attivare, eccolo qui. Ecco, un saluto a tutti. Benvenuto Armao. Piacere di vedervi e complimenti per la posizione nella quale siete, è un posto bellissimo questa nave che conosco bene e in una giornata che vedo di sole, complimenti. So che ci sta invidiando per la location e vorrebbe essere qui con noi. Assolutamente sì, assolutamente. Gli imperi non gliel'hanno permesso. Ho finito un incontro con il console americano molto delicato che era giusto che facessi e quindi scusatemi del ritardo. No, scusi accettate, non doveva neanche farcele. Entro subito nel merito. Stiamo parlando come lei ben sa di Blue Economy, lei è molto attento a questo settore. Le chiedo nello specifico, perché siamo partiti dall'analisi dei dati della ricerca che è stata realizzata dall'Istituto Taglia Carne, ricerca presentata il 20 settembre. Ecco, voi siete molto attivi anche sulla Blue Economy, siete attenti particolarmente a questa tematica. Le chiedo per questo settore in che modo vi state adoperando per far sì che possa realmente diventare volano di sviluppo per l'intera economia siciliana. La Blue Economy è una realtà oramai a livello europeo, a livello nazionale e soprattutto a livello regionale. Io ho analizzato lo studio dell'Istituto Taglia Carne, che è un istituto che è la fondazione Taglia Carne, che conosco appunto dai tempi di quando era istituto Taglia Carne, quindi da almeno 30 anni. Ed è una delle strutture culturali e economiche del nostro paese più solide e più approfondite nell'analisi. Questa calibratura, che peraltro dà atto dell'attenzione del Presidente Blandina, del Presidente Pace, verso l'economia siciliana, dà una prospettiva. È evidente che la Sicilia, che in questi tre anni, negli ultimi tre anni, si è molto battuta per il riconoscimento della condizione insularità, che adesso è diventata anche un dato oggettivo normativo. Che la Sicilia fosse un'isola, credo che nessuno lo ha mai negato, ne è mai sottasciuto. Il problema è che è stata per troppo tempo un'isola senza il riconoscimento degli oneri, dei costi della sua insularità. Noi abbiamo stabilito, attraverso uno studio molto approfondito, fatto con Promete, alle quattro università siciliane, che i costi dell'insularità sono molto consistenti e quindi ne chiediamo oggi riconoscimento. Ma l'insularità ha una faccia negativa, potremmo dire, o comunque una faccia onerosa, che è quella dei costi dell'insularità, ma ha anche una faccia positiva e di grande ritorno, che è quella della Blue Economy, perché essere un'isola proietta la regione Sicilia interamente verso la Blue Economy. Cioè non c'è l'embo della nostra Sicilia, al metto le aree interne, ma che anch'esse spesso hanno forti collegamenti con le zone riverasche, che non si è proiettata verso il mare, che non si è entrisa di mare. Lo dico, faccio una battuta che magari risulterà strana, ma per esempio uno dei luoghi della Sicilia dove si mangia il miglior pesce è Enna, che è il più alto capoluogo d'Italia, perché Enna, pur essendo collocata nel centro della Sicilia, ha una cultura culinaria del pesce che per esempio è molto forte, proprio perché è una zona interna di un'isola e non è una zona interna di un continente. La proiezione verso il mare fa sì che la Blue Economy sia non solo rilevante sul piano delle proiezioni dell'industria ittica, della trasformazione del pescato, dell'attività di ospitalità turistica, che certamente è molto importante per la nostra economia. Quest'anno abbiamo una crescita veramente straordinaria. Abbiamo da poco presentato i dati al documento di economia e finanza regionale, che vedono una crescita prorompente da qui al 2024, che giungerà a storare i 100 miliardi di prodotti interno lordo, soglia mai raggiunta dalla regione siciliana. Ma i dati del documento di economia e finanza di ieri del governo nazionale ci inducono a dover incrementare in termini migliorativi queste previsioni. Di questo elemento di crescita centrale dell'economia siciliana, la Blue Economy è un segmento importante. Ora, la circostanza che la Camera di Commercio di Messina, a cui va pieno apprezzamento per la sua rilevanza dimensionale, ma anche storica, nell'economia siciliana, stia proiettando alcune iniziative. Intanto il merito di aver promosso questo studio. E poi si stia proiettando verso nuove iniziative. Ho sentito di una iniziativa importante del settore nautico, di una fiera nautica, che sarebbe per la Sicilia una grandissima opportunità. Ecco, non può che essere una misura, un'iniziativa sulla quale il governo regionale deve sentirsi pienamente impegnato, a sostegno di chi intraprende, di chi innova. È una fase nella quale occorre buttare il cuore oltre la SIEP, che non tornerà più. È un'opportunità per la Sicilia senza precedenti, ma anche senza possibilità di repliche. Conoscete tutti anche la notizia di questa mattina, che la Commissione Europea ha proposto l'allungamento del temporary framework, cioè la possibilità degli interventi di aiuto fino a giugno prossimo. Cioè non solo si va a incentivare la possibilità di sostenere le nostre imprese che hanno bisogno di aiuti, ma anche si può giungere fino a giugno prossimo. Questo vuol dire che noi uniamo la crescita economica con la possibilità di alla spinta pubblica delle misure finanziarie. Su questo siamo impegnati tramite IRFIS, tramite IRCA, tramite le misure che mettiamo in campo a favore dell'economia siciliana. L'impegno della regione è davvero pieno, soprattutto per chi ha visione, per chi intraprende, per chi comprende che solo l'impresa può tirare fuori il sud dalla sua retratezza e dal divario. Presidente Armao, noi non possiamo che ringraziarla, anche perché per il rinnovato impegno, perché mi ricordo aveva già dato questa disponibilità durante una trasmissione che avevamo realizzato sempre con l'iperdinamismo fattivo del Presidente Blandina a Messina, dove si era iniziato a parlare di questo ipotetico, dell'ipotesi di realizzare un salone nautico. Come vede, man mano questo tipo di idea si sta concretizzando, oggi siamo qui per parlarne, per entrare ancora più nel merito. Se lei ricorda, avevamo avuto anche la disponibilità totale anche della città metropolitana di Messina, a far sì che si realizzasse questo. Ci fa piacere sentire ancora direttamente dalle sue parole la volontà e l'impegno di dare massimo appoggio dal Governo regionale a questa iniziativa che Blandina, insieme al sistema camerale siciliano, vuole portare avanti. Non possiamo che ringraziarla. Ecco, non so se Blandina vuole aggiungere due parole perché poi so che dovrà comunque lasciarci di nuovo per degli impegni di giunta. Posso restare? Ah, perfetto, perfetto. Ottimo, ottimo. Allora rimarrà con noi. Grazie all'assessore Armao, il vicepresidente della regione siciliana perché è sempre a fianco del sistema camerale e in particolare della Camera di Messina. quindi stiamo facendo delle cose in grande sintonia con la presidenza della regione e con l'assessorato all'economia e stiamo cercando di valutare come questa collaborazione poi diventi strutturata nel senso che aiutiamo le nostre aziende a cogliere le opportunità che il governo regionale mette in campo proprio per accedere non solo alle leggevolazioni ma anche in tema di semplificazione insomma tutto quello che il governo regionale sta mettendo in campo dal punto di vista normativo e poi tocca a noi assistere alle imprese fare in modo che le aziende colgano queste opportunità e che tutto sia coerente poi con un disegno con una strategia appunto che il governo regionale ha tracciato a proposito del salone dell'ipotesi del salone della nautica io non lo vorrei nemmeno chiamare salone della nautica sarebbe l'ennesima replica di eventi espositivi che si fanno in giro per l'Italia mi piace pensare invece che possiamo attrarre tutto quello che ruota intorno alla risorsa mare in un evento che metta che mette in fila le nostre capacità le nostre risorse le nostre le nostre capacità di elaborare nella ricerca poco fa pensavo al NAVTEC che è il distretto il distretto tecnologico che è stato costituito ormai 15 anni fa a Messina e che questo fa sviluppa innovazione nel settore nel settore navale ma anche l'università qualche tempo fa è venuto il presidente della federazione motonautica mondiale a Messina non è un caso perché l'università di Messina ha un laboratorio che sviluppa sperimenta le celle di sopravvivenza delle barche offshore delle barche che viaggiano a 200 km l'ora sull'acqua ecco tutta questa cosa stiamo cercando in effetti di tenerle tutte insieme di capire come non è solo il saperle e poi saper mettere mettere diciamo in 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 produzione un'idea verso un verso una la realizzazione di un vero e proprio distretto diciamo che sul piano produttivo sul piano economico renda poi tutto questo valore e occupazione e soprattutto sbocchi per per i nostri giovani soprattutto per quelli che hanno formazione universitaria alta formazione anche nella ricerca quindi grazie ancora Gaetano grazie per per la tua vicinanza per le cose estremamente importanti che ci dici e soprattutto quelle che fai ecco abbiamo il piacere quindi di avere ancora l'assessore Armavo con noi perché dopo avrò da fargli un'altra richiesta prego Armavo aggiungere solo una cosa è evidente che di questa economia blu della Sicilia parte integrante e ineludibile io lo ripeto ossessivamente mi perdonerete mi complimento con la signora per la assoluta assonanza dei colori della borsa con quelli della della tela veramente in pantana assoluta dicevo l'assoluta assonanza che vi è tra la 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 tendenza della tutela delle misure per il mare e il ponte sullo stretto di Messina io non voglio diciamo ribadire questa cosa che sembra che diventi una condanna per Messina e quando si parla di Messina si parla sempre del ponte ma sono due cose ormai assolutamente collegate ecco proprio venerdì scorso in un confronto che abbiamo avuto con il sottosegretario Cancelleri di fronte alla mia domanda se il MIMS il Ministero delle delle infrastrutture della mobilità sostenibile abbia affidato l'incarico per la progettazione del ponte a Italferra mi è stato detto che è così e poi il giorno dopo il ministro il ministro degli esteri che è stato sempre a Marsala ha confermato l'innovabilità del ponte è evidente che per l'economia blu della Sicilia il ponte è un elemento molto importante e funzionale non è un'altra cosa non è un modo di collegare due regioni due città è un elemento essenziale per l'economia blu perché abbatterà enormemente l'inquinamento che c'è nella città di Messina dovuto al traffico per il trasferimento da e per Reggio Calabria Savita San Giovanni e Messina perché diventerà una centrale di energia pulita eolica fotovoltaica marina di tutti di attraversamento dei treni che producono a loro volta energia quindi una centrale energetica verde assolutamente rilevante quindi grande opportunità all'economia blu anche dal ponte che è una prospettiva essenziale per la per la nostra regione e per l'intera Europa è un elemento che volevo dare come informazione per le cose che si fanno e i progressi che si fanno perché qualche anno fa sentire che questo affidamento era fatto e che il problema del ponte era in corso di risoluzione sembrava una cosa impensabile oggi piano piano passo dopo passo meglio dire lotta dopo lotta ci si sta arrivando grazie di nuovo Armao beh quando parliamo di di Blue Economy c'è anche un altro aspetto molto importante che è l'aspetto del turismo e soprattutto quando parliamo di Blue Economy nel mezzogiorno e soprattutto in Sicilia noi abbiamo fatto una richiesta a Giorgio Palmucci il presidente dell'Enit dell'Agenzia Nazionale del Turismo che doveva essere qui con noi ma che ha mandato un video messaggio a Palmucci abbiamo chiesto quale rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare si può ipotizzare per la ripresa dopo la criticità anzi le tante criticità che ovviamente hanno colpito il settore del turismo a causa della pandemia Covid-19 chiedo alla regia di mandare il contributo video di Giorgio Palmucci grazie a tutti 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 Grazie. 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 Parlo anche all'autorità e qui vedo il segretario generale ma anche insieme agli altri distretti legati al Blue Economy per essere pronti e programmare già da ora per il PNRR perché i due progetti che abbiamo vinto sono una palestra, ci fanno capire che anche la Camera di Commercio è un ente pubblico che rappresenta le imprenditori, quindi non è soltanto registro imprese, non è soltanto erogare servizi di un certo tipo ma anche capace di programmare, di progettare anche a livello europeo e di soprattutto in tema della Blue Economy e qui abbiamo due territori dove la Blue Economy hanno un peso quantitativo e qualitativo rilevante, noi possiamo farcela. Quindi dobbiamo prepararci sin da ora a programmare le nostre progettualità col PNRR insieme alle altre Camere di Commercio siciliane, insieme alle imprese del territorio ma anche con le altre regioni, quindi anche con la Liguria. I due progetti molto velocemente che dobbiamo firmare a brevissimo al Ministero dei Trasporti, abbiamo presentato due pacche al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, uno come capofila alla Camera di Commercio di Messina insieme alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, la città metropolitana di Messina, che va proprio il tema chiave è quello di aver creato un nuovo modello proprio di sostenibilità perché viene inteso il rapporto di mobilità come servizio e service perché non è soltanto la costruzione di una piattaforma tecnologica e infrastrutturale, ma è proprio un nuovo modello organizzativo che consente di programmare un po' il servizio di trasporto pubblico on demand per cui anche questo va nell'ottica della sostenibilità, del risparmio, della riduzione delle emissioni inquinanti ma anche quello di garantire efficienza e anche di implementare il turismo. È la prima piattaforma che coniuga mobilità e turismo e quindi è la prima livello europeo e può riuscire questo progetto soltanto se è percepito, se è conosciuto, se gli stakeholders e le imprese lo conoscono, lo capiscono, perché è importante non soltanto realizzarlo ma che funzioni, che sia applicato concretamente e noi stiamo cercando gli incontri anche d'estate che abbiamo realizzato, sono serviti e serviranno anche incontri come questo a cercare di diffondere il più possibile, a farlo conoscere in maniera tale che quando partiremo adesso con la firma della sottoscrizione del Ministero del contratto, faremo l'ATS appunto con la Camera di Commercio di Reggio Calabria e con la città metropolitana, partiremo subito con l'analisi strategica di cui già stiamo parlando multiregionale e poi partiremo proprio con la realizzazione. Quindi è una prima palestra per poi essere pronte agli altri progetti che noi vogliamo portare a parte su un tema, l'economia blu, turismo e tutti gli altri temi legati che stanno nelle corde della Camera di Commercio di Messina, perché Messina è una città di mare come d'altronde anche la Spezia. Grazie, grazie Paola Sabella. Blandina, Sabella parlava di turismo, di altri aspetti importanti della blu economy, un altro aspetto su cui forse bisognerebbe cercare di ripuntare in maniera molto forte nell'area messinese, perché c'era una eccellenza in questo settore, è proprio quello della cantieristica e della nautica. Che cosa pensa? Al riguardo si potrebbe veramente cercare di dare una nuova accelerata a questo settore? Il settore sulla cantieristica maggiore, quindi la cantieristica per la riparazione di navi, c'è un trend costante. Io mi riferivo più che altro al sistema della nautica da di porto, che purtroppo negli anni addietro ha avuto un grave momento di stallo. Lei mi aveva ben capito nella domanda, mi sa, Blandina. La cantieristica da di porto sta ripartendo, insomma, dopo le crisi che si sono avvicendate senza dar tregua, e quindi un intero comparto, un intero distretto che aveva fatto registrare indici di crescita straordinari tra il 2000 e il 2011, che appunto con il governo Monti... Ecco, non riusciva a dirlo, quasi non riusciva a dirlo, Presidente Flavio. Con il governo Monti, diciamo, alcune misure che sapevano tanto di demagogico, di punitivo, perché bisognava compensare nel tassare, tartassare il lusso, bisognava compensare invece misure molto impopolari che andavano a colpire tutta la popolazione. Quindi, diciamo, è diventata una bandiera, che andava in barca era sicuramente un ricco spregiudicato, grassatore del popolo, delle risorse, eccetera, eccetera, senza considerare che a valle dell'utilizzatore, dell'armatore, del noleggiatore, c'era ancora economia di chi rendeva servizi, e a Monte c'era un tessuto industriale molto importante, che proprio nella provincia di Messina aveva realizzato uno straordinario distretto fatto da cantieri di grande livello, progettisti altrettanto valenti e con maestranze che avevano dato dimostrazione di poter misurarsi con altri poli, compreso la spezia, c'era un baglietto, un nome su tutti. Ecco, c'erano operatori, cantieri e maestranze in grado di tenere la concorrenza dei più blasonati cantieri d'Italia e del mondo. Piano piano stiamo ricostruendo, stanno ripartendo alcuni cantieri, i piccoli hanno resistito più o meno con difficoltà, esiste un polo della nautica minore che rappresenta un terzo della produzione europea, imbarcazione sotto i sei metri, non è poco, e poi c'è quest'altro fenomeno di cui parlavo prima, del refitting di imbarcazioni di lusso che apre ulteriori prospettive perché oltre al refitting, oltre alla parte che riguarda la cura della barca, della nave, bisogna dare ospitalità agli equipaggi, bisogna assicurare tutta una serie di servizi che fanno crescere un indotto qualificato e che registra anche dal punto di vista dei fatturati numeri interessanti. Ci rimane un po' l'ammare in bocca che non siamo riusciti a far decollare i cantieri di costruzione sulle imbarcazioni di maggiori dimensioni, però sembra che ci siano le possibilità, che ci sia l'interesse tra l'altro di qualche investitore, di qualche marchio americano di venire a fare questo tentativo, ovviamente tenteremo di accompagnare con grande supporto, con grande decisione. Punto. Ha detto molto, Blandina, veramente ha detto molto. Io se Armao è ancora collegato con noi? Assessore? Eccolo. Armao, allora io le devo fare un'altra domanda perché si è toccato nei vari intermenti. Il piano nazionale di resistenza e resilienza, se ne parla sempre, oramai è diventata forse anche la panacea di tutti i mali, ma tantissime saranno le risorse stanziate, uniche, perché evidentemente è un treno che non ripasserà questo. Dobbiamo cercare di sfruttarlo al massimo. Non voglio dirlo purtroppo. E purtroppo però dovremmo gridarlo anziché dirlo. Però è un treno che dobbiamo veramente salirci a bordo e cercare di arrivare alla destinazione nel migliore dei modi perché sennò sarà veramente l'ultima grande occasione persa che non si ripeterà. E continueremo a svendere tutto ciò che abbiamo di bello in termini di produttività nel nostro paese. Io le chiedo quanto, secondo lei, il futuro delle blu economy passa da questo piano nazionale di resistenza e resilienza e soprattutto nello specifico nella regione siciliana. Allora, per essere puntuali, io ho presentato nella nota del documento di economia e finanza regionale, abbiamo fatto uno studio nell'analizzare lo straordinario effetto di impatto nella crescita fino al 2024 delle risorse extraregionali. Abbiamo in qualche modo accumulato gli effetti del PMRR, il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, del REACT-U, che è un'altra misura molto importante per l'80% dedicata alle regioni meridionali e circa 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo arriveranno in Sicilia, più il Fondo Sviluppo e Coesione nella previsione 21-27, la nuova programmazione europea nel 21-27, più altre risorse che si libereranno dalla precedente programmazione. Questo porterà da qui al 2027 ad una dimensione di strumenti finanziari di incentivazione e sostegno all'economia siciliana di circa 50 miliardi. Come bene diceva lei, poc'anzi, una iniezione di finanza aggiuntiva rispetto ai fondi previsti dal bilancio, che si aggira attorno a 21-21 miliardi di euro l'anno, che è veramente straordinaria, che non ha precedenti e che non avrà ripetizioni, perché è irrealistico pensare che stiamo indebitando i nostri figli e lo potremo fare un'altra volta nel prosieguo di questi anni, almeno nei prossimi decenni. È chiaro che questo impone il massimo della serietà, il massimo dell'attenzione, il massimo della concertazione anche tra i diversi livelli di governo. Un approccio del genere può essere vincente solo se è multilevero, come dicono gli americani, cioè si riguarda più livelli di governo che interagiscono tra di loro e non fa una gara a chi si tira più le risorse. Io ho già, e mi piace dare un'anteprima proprio oggi alla vostra iniziativa, la cernita dei primi stanziamenti che riguarderanno la Blue Economy in Sicilia del PNR. Ripeto, non sono investimenti esaustivi, finora quello che è stato programmato a livello nazionale che ammonta circa 5 miliardi di euro. Noi abbiamo una previsione di 80 milioni di euro per il rinnovo delle navi dello stretto di Messina. Quindi questo rinnovo servirà nelle more della realizzazione del ponte e certamente a abbassare l'inquinamento, a consentire treni più lunghi e più veloci nel collegamento tra la Sicilia e la Calabria. Dopodiché abbiamo una serie di misure per i porti molto significative che riguardano l'elettrificazione dei porti della Sicilia che certamente ammonta 300 milioni, riguarda l'efficientamento energetico dello stretto, il porto di Catania, il porto di Palermo, il porto di Palermo, il porto di Trapani e Messina Tre Mestieri per 37 milioni di euro. Quindi sono già, questi sono dati MIMS, quindi sono dati del Ministero dell'Infrastruttura e della mobilità o delle mobilità sostenibili come si sono autodefiniti e poi definiti per legge. Abbiamo poi investimenti per il cosiddetto cold ironing nei porti che ammontano altri 155 milioni per Palermo, un nuovo impianto elettrico di illuminazione d'aria portuale, Termini Mereese, nuovo impianto elettrico per 6 milioni, Palermo 32, Trapani 6 milioni, Porta in Fredo per 3 milioni, Augusta 32 milioni, Catania, efficiente elettrificazione delle banchine 56 milioni, Siracusa 18 milioni, Gela 1 milione e mezzo, totale 155 milioni. Quindi siamo già a 455 milioni per i porti, con un investimento che certamente mette insieme i 300 più i 155. E molto importante poi è quello che viene fatto nelle ZES, che come voi sapete hanno come fulcro vitale le autorità portuali. L'idea della ZES in Italia, soprattutto quella riguardante il sud e anche la Sicilia, nasce come un'idea di una zona economica speciale che si sviluppa attorno al porto e attorno alle zone di collegamento tra il porto e l'entroterra. E qui abbiamo altri 111 milioni di investimenti, tra Augusta, Catania, Riporto, Sentaglio, Premitello, Gela, Termini Mereese, Termini Mereese, Trapani, collegamento porto con l'area industriale di Trapani. Quindi dei collegamenti che riguarderanno i porti con i cosiddetti retroporti e le possibilità di sviluppo con le aree territoriali di riferimento della zona economica speciale. Quindi se mettiamo insieme i 455 più i 111 più gli 80, siamo attorno a 650 milioni, oltre 700 milioni, che è una cifra veramente importante che in qualche modo contribuisce a sviluppare quella blue economy di cui diciamo. È evidente che bisogna fare di più, bisogna spingere di più, compito della regione è in questo senso quello che cerchiamo di fare. Chi mi conosce sa che su questi temi mi batto, il governo musulmane ci tutto è impegnato su questa iniziativa. Allora, le risorse ci sono, come non mai. Non è un problema di risorse, è un problema di efficientamento della capacità di spesa e di rigore e correttezza nella spesa. Su questo mi fa piacere che il presidente Blandina, Brocanzi, richiamava la forte e stretta collaborazione che c'è tra il sistema camerale, sebbene il sistema camerale in questo momento sia sottoposto a un certo travaglio che noi ben conosciamo, ma non per la Camera di Commercio di Messina. Il sistema delle autorità portuali, sono stato a contatto, ieri sera ero insieme al presidente dell'autorità portuale di Palermo della Sicilia occidentale, Pasqua di Mamonti, quindi Camera di Commercio, autorità portuali e autorità di sistema e regione devono collaborare con la massima sinergia possibile. Questo è in corso, questa collaborazione, un po' meno col governo centrale che cerca un po' di andare avanti da solo, probabilmente, questo l'ho detto anche ieri a un seminario da Cisle, una maggiore sinergia, un approccio multilivello può rendere più efficiente la spesa. Qui non è un problema di appropriarsi di pezzi di spesa, assolutamente no. Qui è un problema di avvertire esigenze e peculiarità che solo chi sta sul territorio può evidenziare e rilevare. Chi sta dentro una Camera di Commercio e viene dalle imprese sa bene quali sono le esigenze effettive del territorio e quindi può dare un contributo importante. Chi viene da un ministero evidentemente ha una visione ministeriale della spesa pubblica e quindi può far poco in questo senso. probabilmente la collaborazione tra il livello centrale e i livelli territoriali può nascere una spesa più efficiente e più calibrata. Grazie Armao, c'è Blandina che voleva integrare il suo intervento e poi le chiedo di rimanere perché farò un'ultima domanda a cui chiedo una risposta breve ma sarà la stessa domanda per tutti gli ospiti. Siccome qualche tempo fa ci siamo visti a proposito delle ZES ho avuto modo di ricordare che le ZES sono state costruite o meglio i piani strategici delle ZES in particolare quello della Sicilia orientale con riferimento alle aree che rientrano nel territorio della città metropolitana di Messina sono stati redatti in collaborazione con le Camere di Commercio e le imprese. Sono stralci interi in cui mi riconosco qualche passaggio. Oggi invece vediamo che la governance delle due ZES sarà affidata a due commissari e poi nei comitati di gestione ci saranno le autorità di sistema. Le autorità di sistema su cui ricadono gran parte delle aree perimetrate all'interno della ZES della Sicilia orientale ma ce n'è altre tante che sono invece fuori nel territorio della provincia di Messina in particolare c'è l'area lo stesso porto nuovo di Tre Mestieri non è ricompreso ancora nella circoscrizione dell'autorità portuale ma c'è l'area artigianale di Larderia e c'è ancora l'area del centro mercantile Sicilia e c'è ancora vaste porzioni di territorio che non rientrano nella competenza dell'autorità di sistema. E in più, siccome sembra che la continuità amministrativa sia diventato un moloch da abbattere e quindi ci ritroviamo con nuovi amministratori che pensano che tutto quello che è stato fatto dai loro predecessori debba essere cancellato. Io non sono assolutamente d'accordo anzi, ritengo che vada salvaguardato non tanto nell'interesse dei predecessori quanto nell'interesse dei territori dei portatori di interesse, dei cittadini vada salvaguardato tutto quello che è stato opportunamente pianificato proprio in tema di disegno strategico e che ho fatto avanzare al Presidente Pace una richiesta alla Presidenza della Regione e che le Camere di Commercio entrino di diritto nei comitati di gestione. E questo perché risponde esattamente a un'esigenza che tu hai fotografato in maniera assolutamente netta, nidida cioè che siano i territori e gli enti sui territori a stabilire cosa fare, dove andare e come crescere. Ne ho parlato anche col Presidente Andrea Prete in occasione dell'Assemblea di Union Camera a Roma la settimana scorsa lui è un uomo del Sud perché di Salerno e quindi anche lui il tema delle ZES è particolarmente interessato e anche lui, se c'è un'azione congiunta sul Ministro per il Mezzogiorno riteniamo che questa banale modifica che consente di arricchire i comitati di gestione di un'esperienza quotidiana di chi governa i sistemi delle imprese possa essere facilmente raggiunta. Armao, siamo d'accordo per non distruggere quanto di buono già è stato fatto? Io sono un sostenitore della continuità amministrativa ho dovuto tenere in piedi i provvedimenti che in alcuni casi non ho condiviso dal Presidente d'amministrazione ma l'ho fatto proprio perché credo assolutamente nella continuità amministrativa quindi guai a ritenere la continuità amministrativa un disvalore quindi sono assolutamente d'accordo è chiaro che se ognuno che arriva distrugge quello che ha fatto prima e ricomincia da capo è evidente che non ci può essere nessuna capacità programmatoria di medio periodo non dico di lungo ma neanche di medio periodo e tutto vive di segmenti e di frammenti ecco, in quei frammenti non si va da nessuna parte invece ci voglia una strategia di lungo periodo quella del PNRR è una buona strategia maggiore sinergia tra i livelli di governo può rafforzarla in questo senso da poco ho parlato anche col sottosegretario alla presenza del Consiglio di Aeropoli proprio per rafforzare la sinergia tra la conferenza delle regioni e le regioni tutte e il governo nazionale io coordino la Commissione Affari Europei della conferenza delle regioni che ha proprio il compito di lavorare anche sui temi del PNRR e monitorarne l'attuazione ma soprattutto stimolarne la più efficiente applicazione ovviamente ci confronteremo poi con il sistema territoriale delle Camere con le associazioni di categoria e l'abbiamo fatto già ieri col sindacato proprio perché questa battaglia o la vinciamo tutti insieme o la perdiamo tutti non c'è la possibilità che qualcuno pensi di mettere il cappello su questo o quell'iniziativa e finirla lì dobbiamo fare massa critica la Sicilia vince se sa fare massa critica se mette insieme università Camere di commercio comuni associazioni di categoria privato sociale e istituzioni territoriali a partire dalla regione questo è il nostro impegno il governo musulmane ci si muove su questa linea con questa metodologia l'abbiamo fatto anche quando siamo confrontati nella prima stesura delle proposte regionali alla PNRR vedremo adesso soprattutto dove è possibile ancora una interlocuzione tra regione e governo nazionale di inserire ulteriori iniziative e di continuare a battere scusate se torno sempre sullo stesso tema di continuare a battere sulla ineludibilità del ponte sullo stretto di Messina che è un'infrastruttura essenziale per proiettare l'Europa verso il Mediterraneo per proiettare la Sicilia in un contesto di fortissima innovazione nel settore della logistica dei trasporti e dello sfruttamento anche di quello straordinario flusso di navi che con l'attraversamento da su ed va verso Gibilterra spesso neanche guardando la Sicilia perché passa di notte quindi per me avete soltanto qualche lucina mentre invece di fronte a noi appunto c'è un quacervo di grandi navi che potrebbero laddove trovassero un porto di servizio logistico invece di finire a Rotterdam potrebbero servire quantomeno il sud dell'Europa attraverso la Sicilia questa è la sfida non c'è alternativa la condizione di inserire va vista in termini non rivendicativi ma proiettivi e questa è la logica alla quale abbiamo continuiamo a rivendicare la condizione di insurabilità non è una sorta di deprivazione che ci mette lì col cappello in mano cercare di portare a casa qualcosa ci mancherebbe ma è un modo di dire sfruttiamo tutti gli elementi di forza dell'isola cercando di compensare quello che l'isola paga per essere isola grazie grazie Armau allora Lanina l'ultima domanda ma io parto proprio da Disarcita perché l'uomo più addentro a questa tematica chiedo a tutti di essere brevi nella risposta perché se no rischiamo di sforare con i tempi anche ovviamente che ci hanno messo a disposizione a bordo di nave Vespucci Disarcina quanto è importante prevedere una riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa ne abbiamo parlato prima però vorrei da lei velocemente una risposta in tal senso è il moderno approccio è il più corretto approccio per affrontare le cose nel nostro paese i porti italiani sono nati storicamente tutti nelle grandi città nelle città di mare sono nati quando potevano coesistere con le città ma nel corso del tempo questa coesistenza è diventata sempre più difficile potrei chiedere a ciascuno di voi se conosce una sola città di mare con il porto in cui non c'è una forte contestazione tra la città e il porto stesso tra le associazioni portatorici di interessi urbani diciamo sociali e il porto e questa contraddizione è un vero peccato perché invece il porto è fonte di ricchezza e allora l'unica soluzione qual è? è quella di riuscire a coniugare le esigenze crescenti del porto soprattutto dei porti commerciali che hanno poi ovviamente delle implicazioni un po' più brutte diciamo rispetto magari ai porti turistici evidentemente diciamo di Sarcina che i porti commerciali spesso hanno anche dei delle mura proprio che separano correttamente la città dal porto esattamente queste mura sono frutto della caduta delle torri gemelle perché sono conseguenza delle normative dell'ISPS code che sono state introdotte proprio dopo diciamo l'evento delle torri gemelle allora rispettare queste cose significa capire che così come una persona non gli avrebbe mai in testa di andare a passeggiare sulla pista di un aeroporto che è una zona di lavoro dove circolano gli aerei allo stesso modo non può neanche andare a passeggiare su una banchina però siccome le banchine sono state sempre storicamente patrimonio delle persone oggi toglierle queste banchine significa rubare alla gente alle città dei territori preziosi e allora questo cosa vuol dire vuol dire che laddove è possibile e spesso è possibile è possibile a Messina ve lo posso garantire perché lo conosco molto bene ci ho lavorato tantissimi anni è possibile in tutti i porti siciliani è possibile la Spezia è possibile praticamente in tutti i porti d'Italia riuscire a concentrare le attività portuali in determinate aree e liberare ed aprire alla città altre aree questa cosa sviluppa tra le altre cose grandissima economia il caso di la Spezia lo voglio citare giusto per questo noi abbiamo fatto forse il primo project financing su demanio marittimo legato alle crociere e abbiamo scatenato risorse per realizzare il waterfront con un investimento fatto prevalentemente dai privati che si articolerà nei prossimi 30 anni cioè con una concessione diciamo lunga per i prossimi 30 anni che cambierà una parte del waterfront di Spezia cambierà il volto ad una parte del waterfront di Spezia questa è una cosa che abbiamo fatto circa due anni fa che ovviamente vedrà i risultati nei prossimi anni e che è replicabile in tantissime realtà anche in quelle siciliane che io conosco benissimo e che sicuramente si prestano a questo tipo di evoluzione positiva grazie mille di sarcina Sabella la stessa domanda prego sicuramente il presidente su questo argomento è molto più competente di me ma poi chiederemo anche a lui però voglio dire che visto che Messina è una città di transito è una città in cui tanti viaggiatori non sostano arrivano ma non sostano sicuramente avere la capacità di rivedere tutto il modello il waterfront e quindi dare la possibilità di rendere Messina più vivibile più bella con un lungomare all'altezza della situazione sicuramente questo garantirebbe anche una rivisitazione del modello di sviluppo del turismo visto che poi l'economia del blu e tutta la filiera legata al blu di Messina è legata anche per la gran parte al turismo è vero che quando si parla di Messina si parla di provincia di Messina e quindi Olie e Taormina ma sicuramente tutti transitano attraverso Messina e il porto quindi rendere il waterfront maggiormente fruibile ai turisti più bello più sostenibile sicuramente questo renderebbe Messina una città turistica vera e di eccellenza grazie Paolo Sabella assessore Armao abbiamo perso l'assessore Armao allora non è più in collegamento Blandina completiamo con lei l'assessore evidentemente ha perso il collegamento vediamo se riescono a recuperarlo cosa dobbiamo fare per questo waterfront Blandina forse è necessario un'ulteriore revisione della legge 84-94 nel senso che le autorità di sistema portuale dovrebbero circoscrivere o vedere circoscritte le proprie le proprie funzioni i propri poteri ad ambiti che sono prettamente portuali nella definizione diciamo di non quella del vocabolario sponda al mare protetta eccetera eccetera no tutto quello che è funzionale alle attività mercantili industriali di servizio di un porto di un porto porto di un porto commerciale e invece tutto il resto dovrebbe essere liberato non dall'autorità di sistema o dalla governance dell'autorità di sistema dovrebbe essere liberato dalle dinamiche che portano alla pianificazione e alla programmazione di interventi sui lungomari o addirittura nei centri storici di città di mare questo perché ha causato due problemi uno che i piani regolatori dei porti oggi i piani regolatori dei sistemi si scontrano con la necessità di essere integrati con la pianificazione urbanistica uno l'altro perché forse è bene che si occupino diciamo del loro core business della loro mission principale è quella di promuovere traffici marittimi mercantili turistici legati al mare eccetera eccetera e invece abbandonino attività di arredo urbano di gestione di lungomari assolutamente non produttivi dal punto di vista portuale quindi questo secondo me è il problema che va risolto poi sono d'accordo anzi no con l'ingegnere di Sarcena perché le città sono nate intorno sono cresciute sono diventate grandi intorno ai porti intorno alle relazioni marittime ai traffici marittimi alle attività e quindi è incomprensibile che una città di mare diventi insofferente verso la cosa che l'ha generata la fonte principale diciamo che ha costituito il momento fondante di una comunità intorno al mare ma sono i paradossi diciamo la gente dimentica dove viene o forse le città si sono riempite di montanari che non capiscono che cos'è il mare cumare salato direbbe il mio amico e quindi niente vabbè i temi sono tanti a proposito delle competenze a proposito del della sì ancora della revisione della legge 84-94 perché è assurdo che che i portatori di interessi comprese le camere di commercio siano fuori dal dalla capacità di incidere sulla sulla gestione vengano ascoltate solo esclusivamente come parti diciamo vagamente interessate a dare un contributo un contributo nell'organismo di partenariato della risorsa mare col risultato che abbiamo un accentramento di poteri lo posso dire che però si rivela si rivela un accentramento di potere con un livello di impotenza elevato poi sul piano della cioè si è capace di decidere poi non si è capace molto spesso non si è capace di tradurre in azioni concrete o addirittura in operazioni di infrastrutturazione che seguono i tempi diciamo della domanda e non quelli del per fare un'opera pubblica abbiamo un'esperienza comune con l'ingegnere di Sarci che è quella del pontile di Gian Moro ci vogliono 22 anni forse se la finiamo adesso quindi ho paura a pensare che a parte le attività commissariate dal governo sulla grande infrastrutturazione anche portuale cioè la Dica di Genova la fa un la fa un commissario tutte le altre attività invece ricomprese tra quelle che possono essere finanziate o che sono già previste essere finanziate col PNRR con i fondi del PNRR dubito che con i processi normali di programmazione decisione appalto eccetera c'era dubito che si possano rispettare i tempi che si possano spendere spendere quei soldi quelle risorse è un tema sul quale forse un livello di governo come quello che rappresenta l'amico Armao deve essere deve essere deve essere deve essere esposto deve essere momento di esame necessario per apportare correttivi altrimenti diciamo il rischio è quello di non esattamente quello di sprecare risorse disponibili per l'incapacità di realizzare le opere stiamo attenti a questo saremo vigili cercheremo di fare il nostro pressing perché questo non avvenga attraverso ovviamente le nostre le nostre union camere regionali e quella e quella nazionale cercando di fare un'operazione di pressing sul governo grazie Blandina grazie verso l'audio del mio microfono utilizzo quello di utilizzo quello di Blandina se non funziona ecco utilizzo utilizzo questo approfitto per ringraziare di nuovo gli ospiti in presenza per ringraziare i tanti ospiti che si sono collegati da noi da remoto coloro che hanno mandato dei messaggi per essere comunque presenti penso che siano emersi tanti spunti di riflessione assolutamente importanti per quanto riguarda la possibilità di far sì che la Blue Economy realmente diventi volano di sviluppo ulteriore per la Sicilia di domani partendo proprio da quel grande evento che si vorrà realizzare a Messina l'anno prossimo per tutto ciò che è il mondo dell'economia del mare grazie di nuovo ai miei ospiti grazie a chi ci ha seguito in collegamento e arrivederci a tutti grazie 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 a tutti